E' una battaglia che Coldiretti ha vinto dopo tanti anni di dure lotte e di duro lavoro. Questo non è un riconoscimento solo all'organizzazione e a tutti gli agricoltori, migliaia di cereagricoltori, che da questo provvedimento comunque trarranno un vantaggio, ma anche e soprattutto per i cittadini consumatori che finalmente, e glielo auguro, vadano a leggere dietro l'etichetta da dove viene la pasta che stanno mangiando. Dal 14 febbraio scorso sulle etichette della pasta viene indicato il luogo di coltivazione e il luogo di molitura del grano. Il cosiddetto decreto grano-pasta tutela così tutte le produzioni made in Italy. Un pacco di pasta su tre infatti è realizzato con grano straniero stesso di casi per il riso. Il provvedimento prevede invece che sull'etichetta debbano essere indicati il paese di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento. La garanzia dell'etichettatura del made in Italy e quindi la consapevolezza da parte dei consumatori di che cosa consumano, che possono finalmente essere a conoscenza che le paste vengono fatte con un grano italiano, credo che questo sia un grandissimo passo avanti che va verso i diritti dei consumatori e la tutela delle nostre imprese e del made in Italy. È un piacere poter leggere dietro l'etichetta della pasta grano prodotto in Italia e frantumato in Italia, per cui è giusto, è un piacere e di sicuro sarà anche più facile valorizzare il sugo e valorizzare la pasta.